Posso soltanto adorarti e dare la vita mia per te, il desiderio del cuore mio è fare la tua volontà, la tua grazia mi basta e il tuo amore travolta. Evangelo di Luca, capitolo 6, leggiamo dal verso 6 al verso 11. Ora venne in un altro sabato che egli, cioè dire Gesù, entrò nella sinagoga e insegnava. Or là c'era un uomo la cui mano destra era secca e i farisei e gli scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri, un'altra versione dice, egli conosceva i loro cuori. Ed egli si alzò in piedi, quindi Gesù disse loro, io vi domando, è lecito nei giorni di sabato fare del bene o del male? Salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Ed egli lo fece e la sua mano fu resa sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra loro che cosa potessero fare a Gesù, che cosa di male potessero fare a Gesù. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola. Signore Benedica, potete accomodarvi. E con l'aiuto di Dio stasera desidero parlarvi intorno al fatto che Gesù conosce il cuore. Alleluia. Gesù conosce il cuore. Gesù conosce il mio cuore. Gesù conosce il tuo cuore. Alleluia. Non ci sono segreti ai suoi occhi. Alleluia. Ci sono persone di cui a volte si dice ha portato questo segreto con sé nella tomba. Perché nessuno ha mai saputo una determinata verità intorno ad un determinato soggetto che conosceva soltanto quella persona. Però, mentre questo è vero per quanti magari lo conoscevano, per il mondo intero, ma agli occhi di Dio non ci sono segreti. A me. Questo abito, questo corpo, non è in grado di formare una barriera sufficiente affinché Dio non veda quello che c'è nel mio cuore, nella mia mente. È chiaro, quando la parola di Dio parla del cuore, tipo nel contesto biblico di cui abbiamo letto, sta facendo riferimento ai pensieri, alla parte interiore dell'uomo, ai ragionamenti, alle emozioni. Perché il cuore di per sé è un muscolo che serve soltanto a pompare il sangue e farlo circolare in ogni parte del nostro corpo. Ma così come il cuore è di vitale importanza perché nessuno di noi può vivere senza cuore. Magari si dice a volte che quell'uomo è senza cuore. Ma è soltanto un modo di dire, fisicamente è impossibile che una persona viva senza cuore. Ma è altrettanto vero che dal punto di vista spirituale, se il nostro cuore non è a posto con Dio, non possiamo condurre una vita spirituale che fa piacere a Lui. Alleluia. Ed è anche vero che spesso si fa riferimento al cuore come l'unica parte di noi, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista interiore, non dal punto di vista fisico, perché dal punto di vista fisico tutti quanti noi ci preoccupiamo del nostro cuore. Batte un po' più veloce e corriamo dal medico. Batte un po' più lentamente e corriamo dal medico. Abbiamo dolori al pezzo e corriamo dal medico, perché è qualcosa che ci preoccupa. Ci sono interventi al cuore per farlo funzionare meglio. Ci sono persone che prendono medicine per farlo funzionare meglio. Ci preoccupiamo del nostro cuore fisico, però molte volte non ci preoccupiamo della condizione del nostro cuore spirituale. E quando la parola di Dio dice che Gesù conosceva i loro pensieri o conosceva il loro cuore, non aveva fatto un elettrocardiogramma, non parlava del cuore fisico, non ha preso il loro polso tra le sue dita per contare i battiti, non ha ascoltato con lo strumento dei medici per vedere come funzionava il cuore. Stavo facendo riferimento alla condizione spirituale degli individui, a ciò che loro avevano dentro di sé, alle loro emozioni, ai loro pensieri, alle loro attitudini. Perché Gesù è interessato alla condizione del nostro cuore. Alleluia! Gesù è interessato che il nostro cuore sia in buona salute. Perché se il nostro cuore è in buona salute, se il nostro cuore è nella giusta condizione spirituale, la nostra vita sarà in una buona condizione spirituale. Stavo iniziando a dire poco fa che molte volte noi cerchiamo di nasconderci dietro la giustificazione. Beh, non è importanza, come sembro, quello che conta è il cuore. Dio vede il cuore. E mentre questo è vero, però non è totalmente vero, perché è vero sì che Dio vede il cuore, è vero sì che Dio è interessato alla nostra condizione interiore, però è anche vero che Lui stesso dice, così come leggeremo fra poco, che dalla condizione del cuore scaturisce perfino il nostro parlare, scaturisce la condizione della nostra vita. Alleluia! Se qualcuno ha problemi al cuore, il medico dice, mi raccomando, stia a riposo, non faccia sforzi, non corra, non mangi questo, non fumi. C'è gente che aspetta prima di avere il cuore in crisi per smettere di fumare o di bere. Ricordo da ragazzo, fu l'anno in cui mi diplomai. Fu un periodo particolarmente stressante, non tanto per gli esami, ma per un insieme di cose. E lo so che a volte noi genitori guardiamo ai nostri figli, diciamo, ma che problemi c'hai? Però è anche vero che quando si attraversano certe esperienze, ad ogni livello di vita ci sono le problematiche, ci sono i problemi. E noi che abbiamo qualche annetto in più non dovremmo dimenticare che là dove sono oggi i nostri figli, i nostri giovani, non necessariamente per la condizione fisica o per l'esperienza che stanno attraversando, però per la loro età, abbiamo avuto anche noi i nostri problemi. dovremmo cercare di non essere così superficiali quando diciamo, ma che problemi hai? Magari a volte lo si fa per sdrammatizzare, però non dovremmo, come dire, essere categorici e far pensare che anche se ha dei problemi non ha importanza. Certo, se il problema non è mio non ha importanza, ma se è di mio figlio ha importanza. dovrebbe avere importanza. Amen. Ed io in quel periodo della mia vita ho avuto un particolare periodo di stress. C'era poi pure certe fantasie, volevo andare dall'altra parte del mondo, tutto un insieme di cose che mi hanno messo sotto stress. non riuscivo a dormire bene, ricordo le notti insonni che ho passato. Alla fine sono andato dal medico e il medico mi ha prescritto una medicina. Sapete come sono le medicine? Che sono multivalenti, riescono ad uccidervi in molte direzioni diverse. Io ho letto le indicazioni di quella medicina e quello che è risaltato di più ai miei occhi è stato il fatto che questa è una delle indicazioni della medicina era per insufficienza cardiaca. Ora io non avevo problemi di cuore, ma nello stato mentale in cui mi trovavo, nella condizione di stress in cui mi trovavo, quelle parole nell'indicazione della medicina ebbero un effetto particolare nella mia mente e mi sono convinto di avere dei problemi di cuore. Il mio medico, era un bravo medico, era molto giovane, ma era molto bravo. Era uno di quei medici che se uno dei suoi pazienti aveva bisogno di una trasfusione di sangue e lui non aveva donato troppo di recente, era il primo ad offrire il proprio braccio. Ricordo ancora il suo cognome, il suo dottore russo. Ci andai e lui capì il mio stato d'animo e mi mandò dal cardiologo. Il cardiologo mi fece fare una serie di analisi, mi ha fatto fare la prova sotto sforzo per cercare di tranquillizzarmi, ma da qui non riusciva ad uscire il pensiero che avevo problemi cardiaci. La mente riesce a fare brutti scherzi se noi non stiamo attenti. E quindi, pensate, un ragazzo di 19 anni, dormivo malissimo, poi cercavo di non fare troppi sforzi, quando mi alzavo camminavo piano, e il mio cuore non funziona. ci preoccupiamo dal nostro cuore, perché sappiamo che se il cuore decide di andare in vacanza, noi andremo nella tomba. e sfido chiunque a dire a me, del mio cuore fisico, non mi importa nulla. Perché ho sentito, ho visto molti correre dal medico quando si comincia a avere la paura che qualcosa non va, quando il cuore arriva in gola, quando ci si sveglia con le palpitazioni, o quando ci si sente il cuore, perdere dei colpi, perché è un organo di vitale importanza per il nostro corpo. E per quanto riguarda l'aspetto spirituale, è la condizione, la parte a cui Gesù fa riferimento per indicare qual grande importanza ha nella nostra vita, che il nostro cuore sia posto con Dio. Vedete, queste persone che erano là a guardare se Gesù avesse guarito l'uomo di sabato o meno per poterlo poi accusare. Quella era la condizione del loro cuore. Erano costantemente alla ricerca di un cavillo, un appiglio per poter accusare Gesù, per coglierlo, tra virgolette, in contraddizione con quella che loro consideravano l'integrità della legge. Andavano nella sinagoga, andavano in chiesa, andavano nella presenza di Dio, però la loro condizione del cuore non era giusta pur essendo nella sinagoga, pur essendo nella presenza di Dio, pur ascoltando la lettura e l'insegnamento della parola di Dio, erano là alla ricerca di qualcosa per cui poter accusare in questo caso Gesù o il loro fratello in generale. Erano stracolmi di autogiustizia e lasciate che vi dico una cosa, tra tra una persona che è piena della propria autogiustizia e una persona che invece è nel peccato, penso che la condizione migliore sia quella della persona nel peccato. C'è più speranza per un peccatore che comincia a intravedere la luce che per una persona che pensa di essere giusto, che non ha nulla da imparare e che lui sa già tutto quello che ha bisogno di sapere e che è a posto così com'è, lui è migliore degli altri, guarda gli altri dalla cima del loro del suo capo, del loro capo alla pianta dei loro piedi con un senso di superiorità, io sono più spirituale di te, io sono migliore di te, io sono questo, io sono quell'altro oppure non ho bisogno di imparare, so già quello che c'è scritto nella parola di Dio, prego quando posso, leggo la parola di Dio, se ho tempo, le predicazioni ormai sono trent'anni, dieci anni, due anni, sei mesi che le ascolto, quella è una chiara indicazione della condizione del cuore malatta, c'è qualcosa che non va, il sistema non funziona così come dovrebbe funzionare, la condizione spirituale non è quella che dovrebbe essere e Gesù ha prestato una grande attenzione a quella che è la condizione spirituale del cuore, alleluia nell'Evangelo di Matteo notate cosa dice Gesù nell'Evangelo di Matteo nel capitolo 12 dal verso 22 dice gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo guarissi che il cieco e muto parlava e vedeva e tutte le folle stupivano dicevano non è costui il figlio di Davide ma i farisei udito ciò dicevano costui scaccia i demoni solo per virtù di Belzebù principe dei demoni e Gesù conoscendo i loro pensieri conoscendo i loro cuori disse loro ogni regno diviso contro sé va in rovina saltea un po' più avanti il punto che voleva evidenziare il fatto che Gesù conoscendo i loro pensieri conoscendo i loro cuori comincia a parlare loro in un modo o nell'altro per cercare di scuoterli ed aiutarli a rendersi conto del fatto che c'era qualcosa che non andava nel loro cuore e un po' più avanti nel verso 31 dice perciò io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo spirito non sarà loro perdonata questa è conseguenza del fatto che Gesù conosceva i loro cuori erano al posto giusto stavano ascoltando stavano erano là in presenza di Gesù Cristo ma la loro condizione non era interiore la condizione del loro cuore non era per nulla buona e Gesù cerca di di scuoterli indicando loro il fatto che si trovavano in una condizione interiore o nella condizione del loro cuore era quanto mai pericolosa quanto mai precaria e parla del peccato che non sarà perdonato e questo era purtroppo a causa della condizione del loro cuore quando interiormente quando nel cuore non siamo a posto con Dio siamo continuamente esposti al pericolo del peccato al pericolo della morte che è conseguenza del peccato perché il peccato genera la morte alleluia ogni peccato e bestemmia verso 31 sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo spirito santo non sarà loro perdonata verso 33 fate o fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio notate qua fa un altro paragone parla dell'albero buono che fa il frutto buono quindi qualcosa che è visibile agli occhi di tutti l'albero buono fa il frutto buono l'albero cattivo fa il frutto cattivo infatti dice l'albero si conosce da frutto come potete dire cose buone essendo malvaggi verso 34 poiché la bocca parla dell'abbondanza del cuore in altre parole ciò che c'è nel cuore in un modo o nell'altro esce dalla bocca si rende udibile si rende visibile proprio come per l'albero buono l'evidenza è il frutto buono per l'albero cattivo l'evidenza del fatto che lui è cattivo quell'albero cattivo è il frutto cattivo per la condizione del cuore buona l'evidenza è ciò che viene fuori con l'audio e col video l'uomo buono adesso Gesù mette da parte l'albero e dice l'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae o tira fuori cose buone l'uomo buono dal buon tesoro del cuore tira fuori cose buone produce cose buone parla di cose buone vive vive di conseguenza alla condizione del proprio cuore l'uomo buono dal buon tesoro del cuore vedete quelle che cercano di dire ando sugnuno vi rugore e no qua Gesù sta dicendo non solo lo vede lui perché lui conosce i cuori ma lo vedono pure gli altri lo sentono pure gli altri proprio come per un albero l'albero buono produce frutti buoni dal buon tesoro del cuore tira fuori cose buone ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro tira fuori cose malvagie forse non lo sapevate ma tutti quanti noi abbiamo un tesoro qua dentro la bontà o la cattiveria del tesoro che noi abbiamo dipende esclusivamente da ognuno di noi se il tesoro del mio cuore è buono ogni qualvolta io faccio un'azione ogni qualvolta dico una parola il modo come vivo il modo come mi comporto è la conseguenza di ciò che io tiro fuori dal mio cuore c'è gente che cerca di fare il processo all'inverso mi adego esteriormente però qua dentro faccio quello che voglio io non ha risolto il problema non è affatto vero che l'abito fa il monaco ricordo molti anni fa io e mia moglie eravamo a visitare una sorella eravamo seduti là nel suo soggiorno a un certo punto lei non so non ricordo se aveva problemi di allergia se aveva problemi di raffreddore subito comincia a star nutire cerca il fazzoletto e tira fuori erano un paio di collanti la guardavo sbadatamente l'aveva infilato in tasca cercava i collanti non riusciva a trovarli però l'aveva messo in tasca e quello che avete in tasca potete tirare non potete tirare fuori quello che non avete perciò lei tira fuori quello che pensava fosse un fazzoletto non finiva mai quel fazzoletto lei è stata la prima a riderci sopra è stata una situazione molto buffa se io ho un fazzoletto in tasca non posso tirare fuori una mazzetta di banconote giusto? non è che sono il mago Silvan i miei coetani dovrebbero ricordarsi il mago Silvan quello che faceva uscire il coniglietto dal cappello quello che dice è un mago no in un modo nell'altro quel coniglio ce l'aveva messo dentro il cappello io non sono un prestigiatore ma non posso tirare fuori quello che non c'è se la tasca è vuota la posso rivoltare non c'è nulla se qui ho un porta a banconote esce fuori ma se non c'è nulla non c'è nulla ma quello che c'è lo posso tirare fuori e Gesù dice che ogni uomo dal tesoro del proprio cuore l'uno tira fuori cose buone l'altro tira fuori cose cattive se una persona va in giro con la pistola in tasca quando mette la mano in tasca è per tirare fuori la pistola ricordo un fratello che è ancora in vetta un uomo che conosco da molti anni è stato uno dei missionari in Europa è stato uno di quei missionari che ha avuto un impatto incredibile su centinaia centinaia di persone nel periodo in cui lui era missionario era un'altra nazione dell'Europa ci sono state non meno di un centinaio di persone che sotto il suo ministerio sono stati hanno invocato la strada del ministerio loro stessi e lui mi diceva che nella chiesa in una delle chiese di cui era stato pastore c'erano degli degli agenti di polizia che però erano sempre in servizio in borghese e per le loro mansioni avevano l'obbligo di essere sempre armati e portavano la pistola con una specie di marchincegno di pelle sotto la giacca e lui mi diceva anche lui era stato un uomo negli atti ranchi dell'esercito americano quando era giovane diceva si arriva al punto di essere così abituati a portare l'arma che magari potrebbero non ricordare potresti uscire di casa senza senza neanche renderti conto di aver lasciato l'arma a casa quindi si prende l'abitudine diceva lui che prima di uscire di casa si faceva quel colpo così dal lato dove c'era la pistola per assicurarsi che era là se si toccava qualcosa di duro c'era sapete come quelli di voi che vi toccate la tasca per sapere se avete il portafoglio o meno e lui con questo ci giocava quando vedevo quei fratelli che arrivavano in chiesa senza che gli altri neanche se ne accorgevano gli facevo questo gesto e loro in automatico ma avendo una pistola non potevo tirare fuori una brioche era una pistola e Gesù ha detto guardate che tutto è conseguenza di quello che avete dentro perché se non si ha dentro si può fare quello che si vuole per cercare di camuffare l'esterno è solo una questione momentanea temporanea prima o poi il sipario si apre e si rivela la vera natura della condizione interiore ma se si ha dentro è inevitabile che in un modo o nell'altro venga fuori se si ha pace dentro è impossibile che si ha pace dentro e fuori sia con le unghie di fuori ma allo stesso modo se non si ha pace dentro e magari una persona si abitua a controllare le proprie emozioni è solo questione della giusta occasione nel momento in cui scocca la scintilla esplode la dinamite ed è questo quello che Gesù sta dicendo l'uomo l'uomo buono e l'uomo malvagio entrambi tirano fuori cose dal loro cuore chi ha il buon tesoro tira fuori cose buone chi ha il tesoro malvagio tira cose tira fuori cose malvagie e poi dice nel verso 36 io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta ora la ragione per cui Gesù si focalizza soprattutto su questo aspetto sull'aspetto verbale ogni parola oziosa è perché all'inizio dice che dalla bocca esce ciò che è l'abbondanza perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore non è che valgono soltanto le parole quello che noi esprimiamo in parola è il risultato di quello che pensiamo e quello che pensiamo è la realtà della nostra condizione interiore è quello che c'è dentro di noi è solo quello che noi siamo in grado di tirar fuori e di rendersi visibile così come abbiamo già detto e lo ribadisco per l'albero l'albero buono produce frutti buoni l'albero cattivo produce frutti cattivi se nel vostro giardino nel vostro orto c'è un albero secco in nessun periodo dell'anno ha foglie è secco è là sembra un albero di plastica ormai è morto è privo di vita cercate un po' a convincere un vostro amico un vostro vicino a dire sì vabbè non ci sono foglie è secco ma se sapessi i frutti che raccolgo da quest'albero mi rideranno in faccia sì vabbè povero illuso nella tua fantasia o se avete un albero e magari i frutti prima ancora di maturare cadono non sono tutti macchiati sono piccoli se riuscite a prendere uno prima ancora che cade lo mettete in bocca e dà un brutto sapore la cosa che è più istintiva da fare è quello che dice la parola di Dio di mettere l'ascia alle radici di quell'albero per tagliarlo perché può essere utile soltanto per produrre un po' di fuoco può essere può essere utile soltanto per produrre qualcosa ma per produrre quel po' di calore quel po' di fuoco deve essere totalmente eliminato ci sono ci sono persone che l'unico tempo l'unico momento in cui possono essere utili per gli altri quando praticamente non ci sono più in giro quando vanno via quando spariscono quando non hanno più modo di influenzare gli altri e quella è una condizione negativa è una condizione triste Gesù è interessato nella bontà del nostro cuore nella buona condizione spirituale del nostro cuore perché se noi abbiamo una buona condizione spirituale del nostro cuore la nostra vita è una buona vita la nostra vita è una vita che dà onore a Dio la nostra vita è una buona testimonianza per Dio non puoi essere un religioso punto e basta non è sufficiente andare in chiesa punto e basta è come se io vado dal medico e il medico mi dice c'è qualcosina che non va con il cuore però siccome sono andato dal medico sono a posto no non sono a posto se non faccio nulla per porre rimedio alla condizione fisica del mio cuore il fatto di essere andato dal medico non cambia le mie condizioni e il più delle volte una cattiva condizione del cuore richiede un cambiamento di stile di vita una persona malata di cuore una delle prime cose se è sovrappeso il medico dice deve perdere peso una persona malata di cuore fuma il medico dice deve smettere di fumare deve smettere di bere deve cominciare a vivere uno stile di vita per porre rimedio alla condizione del proprio cuore perché è importante la condizione del proprio cuore ma nel per quanto riguarda l'aspetto spirituale non è lo stile di vita che aggiusta la condizione del cuore ma è la condizione del cuore che manifesta lo stile di vita che è il riflesso di quello che noi siamo dentro se io amo Dio faccio ciò che piace a Dio se io amo Dio con tutto il mio cuore il mio stile di vita è quello da onorare Dio in ogni aspetto della mia vita quello deve essere il mio obiettivo quello deve essere il mio proposito le mie relazioni le mie amicizie i luoghi che frequento il modo come parlo il modo come mi atteggio il modo come mi vesto riflettono la condizione del mio cuore riflettono il fatto se io ho un buon tesoro o un cattivo tesoro se ho desideri sbagliati nella mia vita in un modo o nell'altro verranno fuori nel mio stile di vita se ho desideri buoni in un modo o nell'altro verranno fuori nel mio stile di vita se i miei pensieri sono negativi in un modo o nell'altro vengono fuori nel mio stile di vita se i miei desideri sono positivi o i miei pensieri sono positivi in un modo o nell'altro verranno fuori nel mio stile di vita perché l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori cose buone ma l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae fuori cose cose malvagie e Gesù porta tutto questo al tribunale finale nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto da dove vengono fuori le parole dalla condizione del cuore nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto della condizione del proprio cuore poiché in base alle tue parole al tuo stile di vita in base a quello che esce fuori dal tuo cuore in base a quello che viene fuori dalla tua condizione interiore sarai giustificato o sarai condannato qualcuno dice ma cos'è questa la salvezza per opere no, non è la salvezza per opere noi siamo salvati per fede però se abbiamo fede in Dio agiamo secondo la volontà di Dio mostrami dice Giacomo la tua fede senza le tue opere ed io ti mostrerò la mia fede per mezzo delle mie opere se io ho fede in Dio se io ho fiducia in Dio se io amo Dio agisco in modo che piace a Dio come faccio a sapere quello che piace a Dio ecco questa è la ragione della parola di Dio la parola di Dio scritta e la parola di Dio predicata perché se noi non prestiamo attenzione alla parola di Dio scritta la parola di Dio predicata stiamo perdendo il nostro tempo se Dio vuole che io faccia questo mi parla ma è così che lo fa cosa ha detto cosa avevo chiesto il ricco quando alzando lo sguardo vide il povero Lazzaro nel seno di Abramo ti prego manda Lazzaro ai miei fratelli prima avevo chiesto un po' di sollievo impossibile noi non possiamo passare di là dice Abramo e voi non potete venire qua manda Lazzaro ai miei fratelli affinché loro non vengano in questo luogo di tormento e Abramo dice anche se un morto dovesse risuscitare andare da loro non farebbe alcuna differenza se vogliono hanno i profeti hanno Mosè ascolti loro hanno i profeti la parola predicata hanno Mosè la parola scritta ascolti loro neanche il più straordinario dei miracoli può prendere il posto della parola la parola scritta e la parola predicata chiesa oggi più che mai e guardate i miei io sono stato battezzato all'età di 14 anni sono 36 anni abbondanti i miei 36 anni dal momento in cui sono stato battezzato non valgono a nulla se la parola non è la mia lampada la tua parola è una lampada al mio piede la parola scritta è la parola predicata ma qualcuno vuole il sogno qualcuno vuole che passi l'aereo con lo striscione con dove c'è scritto Topolino Dio ti sta dicendo che devi fare questo no te lo dirà per mezzo della parola è la parola che deve curare il tuo cuore ed è per la parola che vivrai una vita degna di essere vissuta e di buona testimonianza per Dio di buon esempio per i tuoi figli per i tuoi nipoti per i tuoi vicini per i tuoi colleghi di lavoro perché c'è chi dice lo faccio perché nella chiesa in cui vado fanno così e ci sono altri che invece dicono non vado più in quella chiesa perché facevano le cose che a me non piacciono diventano una questione relativa a ciò che si fa o non si fa quando invece deve essere una scelta relativa a ciò che dice e ciò che non dice la parola di Dio e non è che Dio dà una Bibbia personalizzata ad ognuno di noi potrei scriverci il mio nome qua giusto per assicurarmi che se dovessi dimenticarlo in qualche posto qualcuno in un modo o l'altro potrebbe risalire a me ma il contenuto della mia Bibbia è uguale al contenuto della tua Bibbia Dio dice a me le stesse cose che dice a te c'è una sostanziale differenza in quella che potrebbe essere l'attitudine di chi riceve la parola se l'attitudine è giusta se l'attitudine è un'attitudine di gratitudine se l'attitudine è un'attitudine di sottomissione a Dio allora questa parola ha il suo effetto ma se l'attitudine o la condizione del cuore è quella di dire non mi piace oggi siamo nel 2016 ormai non siamo più ai tempi ai tempi della Bibbia guarda la santità non è mai passata di moda perché se la santità è passata di moda significa che Dio non è più santo e se Dio non è più santo non è Dio e se Dio non è Dio il mondo ha molto da offrirci così come dicono gli stolti mangiamo beviamo tanto è tutto quello che la vita ha da offrirci e non è affatto così perché dopo questa vita c'è l'eternità a cui Gesù fa riferimento nel giorno del giudizio nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto e poco prima dice la bocca parla dell'abbondanza del cuore e ancora prima dice l'albero buono produce il frutto buono l'albero cattivo produce il frutto cattivo e dice pure l'uovo buono dal buon tesoro del proprio cuore tira fuori cose buone non solo parole buone cose buone abitudini attitudini stile di vita azione atteggiamenti comportamenti mettendola mettendola come come volete se noi non riflettiamo la presenza di Dio nella nostra vita stiamo perdendo tutto la società in cui noi viviamo diventa sempre peggiore adesso adesso il nostro sindaco si può fare vanto di aver celebrato il primo matrimonio tra due donne qui a Catania sarò orgoglioso di questo cosa fa la Chiesa in che modo può agire noi non dobbiamo reagire noi dobbiamo agire la nostra non deve essere una reazione alle circostanze la nostra deve essere un'azione costante di testimonianza di Gesù Cristo e la nostra vita deve parlare ad alta voce di quello che noi crediamo è ironico ma le due donne che sono state unite in matrimonio dal sindaco si chiamano Laura Teste e Rosalba Caruso non sto scherzando e lo so che loro non c'entrano completamente nulla tu sapevi che fa l'Ugo Russo no cosa ma questo è il mondo in cui noi viviamo e se non stiamo attenti con la condizione del nostro cuore se la nostra vita non è una testimonianza costante non facciamo altro tacitamente di scendere a compromesso con il mondo ed è già un dao di fatto che molti cristiani non si distinguono per nulla nel mondo se dovreste cercarli non riuscireste a trovarli perché sono soltanto dei cristiani religiosi ma non dei cristiani seguaci di Gesù Cristo quando sento dire di cosiddetti cristiani che evangelizzano in bichini per le spiagge è triste o quando evangelizzano con la sigaretta in bocca è triste quando evangelizzano davanti a un bicchiere di birra è triste e ci sono cosiddetti cristiani che sono più gelanti nel difendere la squadra del proprio cuore che nel difendere la propria esperienza con Cristo e difenderla non significa che dobbiamo tirare fuori la spada difenderla significa che non dobbiamo vergognarci di essere dei cristiani ora io non ne capisco un H di calcio quindi qualsiasi cosa può essere considerata perfettamente l'espressione più ignorante che esiste nel campo di calcio e quindi non ci provo neanche però se uno i juventini non si vergogna di essere juventini i milanisti non si vergogna si mettono le sciarpe colorate della loro squadra le bandiere se è d'inverno si mettono i passamontagni di quel colore invadono invadono a volte sul traghetto tifosi di questo o di quell'altra squadra hanno le sciarpe hanno i cappellini hanno le bandiere hanno le magliette e poi là a fare il tifo poi ci sono quelle ancora più stupidi che si ammazzano a pietrate non hanno vergogna di prendere le difese di quello che loro considerano la squadra del loro cuore del loro ideale dove sono i cristiani oppure gli ospedali spirituali sono pieni di malati di cuore Gesù conosce il cuore perché è guardando al tuo cuore che sa cosa può aspettarsi da te ma se il tuo cuore è pieno di un tesoro buono ti guarderai allo specchio e vedrai ciò che c'è nel tuo cuore ho sentito un personaggio di fama nazionale che parlava di quanti sottopongono a chirurgia estetica per diventare più belli rimpicciolire il naso cambiare la forma togliere le rughe eliminare le orecchie a sventola ma lui ha detto chi ricorre a questo tipo di interventi manifesta una profonda insicurezza interiore non è soddisfatto con se stesso e ha detto e quando ricorre alla chirurgia estetica è solo questione di qualche settimana il più delle volte poi si cade in depressione perché chi ha cambiato il nasone alla greca in un nasino alla francese dopo uno due mesi tre al massimo rivuole il proprio nasone hanno bisogno dell'assistenza del psichiatra perché cadono in depressione dal punto di vista spirituale noi abbiamo bisogno di assicurarci che il nostro cuore sia a posto con Dio che nel nostro cuore ci sia quello che Dio vuole e a volte è soltanto una questione di ubbidienza non necessariamente di comprensione perché potresti non capire ma se lo fai in ubbidienza Dio ti aiuterà a poco a poco a capire e a vivere in pace con te stesso ma devi partire dal cuore perché sei nel cuore sarà sulle tue labbra sarà sul tuo viso sarà sul tuo corpo sarà nel tuo modo di camminare nel tuo stile di vita vogliamo alzarci la tua azione mia voce è per me così dolce voglio stare con te gioia in abbondanza c'è nella tua presenza pace e libertà la tua gloria esplende mi transforma e mi cambia voglio stare con te voglio stare con te grazie a tutti